L'assunzione di elevate quantità di zuccheri potrebbe facilitare lo sviluppo dei tumori al seno e le metastasi ai polmoni. Se ne sono accorti alcuni ricercatori dell'Università del Texas in uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Cancer Research. Studi epidemiologici precedenti avevano già dimostrato che l'apporto di zuccheri provenienti dal cibo ha un impatto significativo sullo sviluppo di un carcinoma mammario, perché favorisce meccanismi infiammatori o picchi di insulina che favoriscono l'insorgenza della malattia. Dopo aver indagato l'impatto dello zucchero sulla ghiandola mammaria di diverse cavie di laboratorio, gli studiosi americani hanno dimostrato l'effetto del consumo alimentare di zuccheri sull'attivazione di un processo metabolico che faciliterebbe la crescita di un tumore e la diffusione delle metastasi e soprattutto il fruttosio a essere sotto accusa più del glucosio, ma in generale è noto che un'eccessiva assunzione di zuccheri, amidi, carboidrati determina aumento di peso fino ad arrivare all'obesità, stress ossidativo, danni microvascolari e cardiovascolari, a cui si aggiungono le ormai numerose conferme sul rapporto fra eccesso di zuccheri e tumore.